Grazie, grazie di queste parole, grazie al Festival del Classico, al Professore Canfora e al Circolo di Lettori per questo invito graditissimo. Ma il confronto a distanza tra Ernst Jung e Carl Schmitt, datato alla metà degli anni Cinquanta e del Novecento e poi pubblicato col titolo Il Nudo di Gordio, sembra avvenuto oggi. Poche volte, come in questo caso un testo ormai classico, ci parla con tanta intensità del nostro tempo, dei lampi che lo eliminano, delle lacerazioni che lo attraversano. Poche volte, come in questi due scritti, mi pare, intere pagine sembrano scaturite dai conflitti che in questi mesi agitano il mondo e risuonano nella nostra coscienza. È un caso esemplare, mi pare, di come un classico possa dimostrarsi contemporaneo, varcare la linea del tempo per entrare in contatto diretto con noi. Occidente e Oriente, libertà e dispotismo, terra e mare sono termini che corrispondono perfettamente agli eventi, alle parole, alle immagini che senza sosta ci arrivano dall'Ucraina e dalla Palestina. Eppure, credo, dobbiamo resistere alla tentazione di sovrapporre troppo immediatamente le pagine del Nudo di Gordio a quanto accade sotto i nostri occhi. Perché la contemporaneità dei classici non si misura sulla compresenza, ma sullo scarto, tra situazioni, eventi, linguaggi comparabili ma mai sovrapponibili. Lo sa bene chi fa esercizio di genealogia. Anche quando sembra alla nostra portata, l'origine resta inafferrabile, riconoscibile solo per differenza. Quanto più cerchiamo di arretrare il nostro sguardo, tanto più l'origine arretra anch'essa, fino a dissolversi. Anche perché è l'origine, come dire, non è riposta nel passato dove noi la cerchiamo, ma in qualche modo è piantata nel presente, come il punto di resistenza, la riserva critica, che consente a noi di non aderire completamente al nostro presente. In questo senso, un classico come appunto il Nudo di Gordio non va letto come una conferma anticipata delle nostre convenzioni attuali, ma come una deviazione prospettica che complica il nostro rapporto con l'attualità, sottraendoci alla sua pressione. Ciò, questa distanza prospettica, vale per noi nei confronti dei testi di Jung e di Schmitt, ma vale anche per loro rispetto a una vicenda mitica da cui prendono le mosse, cioè il taglio del Nudo da parte di Alessandro nella sua marcia verso Oriente. Un evento, fin dall'inizio collocato tra storia e mito, esso stesso inafferrabile perché risalente a una stagione nebulosa precedente anche la cultura proto-macedone. Il simbolo del Nudo, la sua configurazione complessa, risale alla cultura frigia, se non addirittura a un'antica tradizione tita, ma ciò che ancora più conta è che tutte queste varianti tite, frigia, elleniche, beh, il taglio del Nudo non allude a una rottura, a una contrapposizione radicale, semmai allude all'inaugurazione di un nuovo ordine, a un'epifania mitico-sacrale che immette in un diverso orizzonte. Da questo punto di vista, il colpo di spada di Alessandro è assimilabile a un altro mito di derivazione molto diversa, ma sempre relativa a una spada, l'estrazione della spada dalla roccia da parte di Re Artù, nel ciclo della tavola rotonda. Anche in quel caso, quel gesto ha un significato, come dire, aurorale. Colui che riesce a estrarre la spada avrà il potere di incidere profondamente nella storia, guadagnando la vittoria sui propri nemici. In entrambi i casi, ciò che è in gioco è dunque un potere istituente che segna una svolta e un'accelerazione nel processo di civilizzazione. Nel racconto che riguarda Alessandro, tutto ha un valore mitico-sacrale. A partire dalla scelta del luogo, Gordio, situato in quello che era considerato, diceva prima Canfora, l'ombelico del mondo, il punto centrale del mondo, il baricentro della terra conosciuta a quasi uguale distanza dal ponte e dal mar Caspio, lungo la faglia che allo stesso tempo separa e congiunge Asia ed Europa. Perciò, secondo l'antica profezia, chi avesse sciolto quel modo avrebbe conquistato l'Asia, avrebbe conquistato il mondo. risuona in quell'evento inaugurale il senso di una decisione da cui non è più possibile tornare indietro, l'irreversibilità di una decisione. La ritroveremo qualche secolo dopo nel passaggio di Rubicone, del Rubicone da parte di Cesare, il condottiero che si è sentito più simile ad Alessandro e che, entrando in Egitto, immaginava anche egli di istituire una relazione costitutiva con l'Oriente, attraverso la quale ridisegnare la carta del mondo conosciuto, un grande progetto politico-culturale, oltre che militare, interrotto solo dalla morte violenta di Cesare, come tutti sappiamo, che nessun altro dopo di lui, non certo Antonio, che ne avrebbe preso il posto a fianco di Cleopatra, avrebbe saputo concepire. Per cogliere il significato del nodo di Gordio, in generale del nodo, della figura del nodo, che circola in tutta la cultura arcaica, non bisogna perdere di vista il nesso tra separazione e congiunzione che fin dall'inizio lo connota. Nella tessitura del nodo una congiunzione passa per una separazione e una separazione diventa a sua volta una giuntura, tutt'altro che significare rottura e contrasto assoluto tra due mondi, quello greco dal cui Alessandro proveniva e quello siatico verso cui marciava, quel colpo di spada implica la loro inestricabile connessione, non richiama solo la contesa, ma anche l'armonia da cui la contesa proviene e alla quale prima o poi riconduce. La conquista di Alessandro è fin dall'inizio intesa ad incorporare il mondo conquistato, ma anche ad incorporarsi in quel mondo, come tutte le vicende del suo viaggio lasciano intendere. Alessandro non conquista la terra in cui penetra più di quanto non se ne faccia conquistare al punto di fare propri i costumi dei suoi nemici. Alessandro resta, certo, greco, ma in vista di un progetto cosmologico, cosmopolitico, che a un certo punto lo mette in contrasto perfino con il proprio esercito e con le proprie origini, come se, dopo aver tagliato il nodo, non facesse che riannodarlo attraverso tutte le sue scelte, dall'antica capitale persiana Persepoli, dove si insedia a lungo alle tre donne persiane che sposa, agli atteggiamenti dei tratti dispotici inusuali per un greco. In nulla Alessandro si contrappone al mondo in cui è entrato da conquistatore e qui invece lo cattura fino a mutarne la personalità. Lo scontro tra Grecia e impero persiano, inteso come un contrasto assoluto tra due mondi del tutto incompatibili, in cui l'uno intende prendere il posto dell'altro, è in buona parte l'esito ideologico di una ricostruzione a posteriore da parte degli storici occidentali che estremizza in maniera indebita il senso di una relazione storico-culturale assai più complessa. Del resto lo stesso erodoto, cui si deve il primo e più celebre racconto dello scontro, non rappresenta il mondo occidentale come l'antitesi assoluta della Grecia, ma semmai come la terra da cui la Grecia si distacca senza mai rompere definitivamente con essa. Oriente e Occidente, in quella che non per nulla è definita cultura e anche lingua indoeuropea, si riconoscono reciprocamente, anche quando si contrappongono. Lo stesso Omero è lontano dal raccontare la guerra di Troia come uno scontro assoluto tra civiltà radicalmente contrapposte. Nonostante la distruzione finale di Troia, Troia che solo per certi versi appare una città orientale, la progenie troiana è collocata dal mito alle fonti della storia occidentale, oltre che per la fondazione di Roma da una parte di esoli Troiani, lo stesso Alessandro aveva rivendicato una discendenza d'Andromaca, moglie di Ettore. Soltanto con la vittoria ad Azio di Ottaviano su Antonio, legato come del resto già Cesare a una regina orientale, i destini di Occidente e Oriente sembrano divergere radicalmente, ma per poi riannodarsi nel tardo Impero Romano, nei secoli successivi, nel mondo bizantino, prima Canfora parlava del ruolo di ponte avuto dalla civiltà araba. A lungo i confini tra i due mondi restano mobili e aperti, prima di diventare orientale, Costantinopoli è a tutti gli effetti una città occidentale, come del resto ci dice la collocazione liminare della Turchia e anche della Russia europea. E questa ambivalenza costitutiva tra unità e separazione che fa del nodo un simbolo così ricorrente, ripreso da tutta la grande filosofia, letteratura, pittura, psicoanalisi, ricordiamo la figura lacaniana del nodo Borromeo. Paradossalmente, dopo essere stato reciso, almeno secondo una versione della vicenda, secondo un'altra fu semplicemente sciolto, beh, quel nodo che lega il gioco al timore del carro simboleggia l'inseparabilità di due parti che si digiungono soltanto per essere di nuovo congiunte. Nel racconto del nodo di Gordio si tratta di qualcosa che va molto al di là di un evento storico o di un episodio letterario. Si può dire che l'intera tradizione filosofica ne sia convolta al punto di riconoscerlo quel nodo al centro della propria interrogazione. Qualche decennio prima delle storie di Rodoto, nei persiani di Eschile, precisamente nel sogno della regina Tossa, le due donne aggiocate al carro di Cerse che incarnano l'Europa e l'Asia appaiono sì diverse, una indisciplinata e l'altra obbediente, ma sono rappresentate insieme e mostrano come i distinti siano inseparabili. Solo più tardi, a partire dal VI secolo, la distinzione tra Europa e Asia assumerà i tratti di un'ascessione, anche di un'opposizione, ma fino ad allora, ancora nei due secoli precedenti, se i popoli Lidi e Frigi erano fortemente ellenizzati, e città ione che portavano impressi alcuni caratteri dell'Oriente. Poi certo, l'Occidente per definirsi, per costruire la propria identità, ha dovuto pensarsi in termini differenziali rispetto alla grande madre Asia, ponendosi in opposizione paradigmatico con essa, ma sia in senso storico che in senso teoretico la differenza non è l'opposto, ma è il polo complementare dell'identità, impensabile senza la differenza, come Hegel e Heidegger diversamente ci hanno spiegato nei loro saggi su identità e differenza. L'intera filosofia occidentale lavora su questo nudo, insolubile, proprio come quello di Gordio. Identità e differenza, uno è molteplice, parte e tutto, sono letteralmente inseparabili. L'un termine è la condizione dell'altro, quindi l'autocoscienza dei Greci trasmessa all'Europa nasce in relazione all'alterità che fronteggia e la circonda come appunto la totalità da cui la parte si stacca per vivere una vita autonoma. Il limite, per definirsi, ha bisogno dell'illimitato, così come il finito dell'infinito e l'ordine del caos. Lo stesso molteplice che è il principio delle gittà greche, per affermarsi, presuppone l'uno che ne costituisce lo sfondo di senso e la matrice. Del resto, nello stesso termine conflitto risuona il cum che lega i contendenti, coloro che si battono insieme in un unico campo di battaglia, come dice Simone Weil dell'Iliade, nel quale appunto Omero non dimentica mai di sottolineare nella differenza e nel contrasto l'orizzonte comune. Ciò non significa che la differenza debba perdersi nell'indistinto. Solo la differenza conferisce identità, appunto differenziando qualcosa che è da ciò che non è. Come non c'è parte senza tutto, così il tutto non può che articolarsi in parti. Per guadagnare la propria autocoscienza, la Grecia, poi l'Europa, poi l'Occidente, hanno bisogno di distinguersi dalla totalità che li ingloba. In termini storico-politici le città greche hanno bisogno di liberarsi dall'oppressione persiana. In termini simbolici devono definire un profilo diverso dal mondo da cui si distaccano, ma questo distacco non ha mai significato contrasto radicale. L'autonomia, cioè la capacità di produrre le proprie norme, non è per forza antinomia. Si confronta sempre con un altro nomos. Allo stesso modo, non solo linguisticamente, l'hostis ha a che fare con l'ospes. Ospes e hostis, come Europa ed Asia, fanno pur sempre parte di uno stesso mondo. Ne sono aspetti diversi, ma complementari. Sulla terra, direi solo nord e sud, restano sempre opposti, sulla linea della verticale dei meridiani, mentre est e ovest, no, circolano, passano, si rincorrono infinitamente l'uno dentro l'altro. Il colpo di spada di Alessandro, quindi, non intende provocare una ferita nel corpo dell'avversario, ma rappresenta una decisione rispetto a qualche cosa che continua ad essere la sua stessa alterità. Decidersi dall'altro non vuol dire necessariamente rompere il rapporto con lui, anzi, è il modo di restare in relazione con esso e, come dimostrano le scelte di Alessandro, anche di alterarsi, di contaminarsi in una modalità che trasforma entrambi. Ecco, tutto quello che fin qui si è detto e molto di più è presente nel dialogo tra Jung e Schmidt. Diversi nelle argomentazioni, nell'intenzione, nel tono, entrambi riflettono sul carattere ambivalente, disgiungente e congiungente del nodo. Per entrambi, Occidente e Oriente, si presuppongono reciprocamente, cioè, del resto, senso in Oriente, che senso avrebbe il termine Occidente? Sia Schmidt che Junger evitano di riproporre l'antitesi bloccata tra luce occidentale e ombra orientale, fuggono questo mito. Entrambi sono scevri da un pregiudizio illuministico, da una tentazione razionalistica. Entrambi sono lontani da Hegel, dalla sua filosofia della storia, da cui gli separa prima l'ombra di Nietzsche e poi la relazione molto forte con Heidegger. Quello che essi oltrepassano è ogni ricostruzione lineare del tempo, ma anche ogni opposizione pregiudiziale, sia per Junger che per Schmidt, Occidente e Oriente, si incontrano anche quando si scontrano in un confronto che non ha soluzioni, vale a dire non ha scioglimento, snodamento definitivo, ma solo circolazione e transico continuo. Per nessuno dei due il taglio porta alla scomparsa dell'annodamento. I due principi, occidentale e orientale, non solo si corrispondono, ma si compenetrano agendo l'uno come limite dell'altro e nell'altro, come la luce della ragione occidentale è il limite nell'arbitrio orientale, così l'ombra orientale è il limite nella presunzione di trasparenza della ragione occidentale. Negli stessi anni, come sapete, Adorno dichiarerà mitica la pretesa di demitizzare integralmente il mito. Si direbbe quasi, soprattutto per Junger, che i due mondi aspettino di congiungersi in un terzo mondo unificato che ne sintetizzi i principi in una totalità capace di rispondere alla frantumazione del presente rappresentata in quegli anni naturalmente dalla guerra fredda, non dimentichiamolo. non dimentichiamo la stagione in cui i due autori scrivono segnata dalla sconfitta di entrambi gli autori interna alla sconfitta della Germania interna alla sconfitta dell'Europa invasa dagli eserciti russi americani e adesso divisa da una coltina di ferro che sta per diventare il muro di Berlino un simbolo di rottura radicalmente opposto a quello del nodo. il muro è l'altro dal nodo ma la sconfitta che Jung e Schmitt avvertono non nasce solo con la guerra è il portato di quel fenomeno che entrambi come farà Heidegger chiamano nichilismo. Se Jung immagina di fronteggiare il nichilismo anzi di oltrepassarlo attraverso quello che aveva chiamato mobilitazione totale e poi la figura dell'arbeiter del lavoratore Schmitt lega invece il nichilismo all'avvento della tecnica che ha deformato lo spazio il tempo il senso lius publicum europeum a collassare secondo Schmitt in un tempo senza spazio e in uno spazio senza tempo è la relazione triangolare tra individuo società e stato che ancora Hegel aveva posto al centro della modernità ciò che adesso entra in crisi radicale inghiottito dall'imbuto del nichilismo è non solo l'ordine politico moderno ma è lo stesso politico è il politico che viene inghiottito secondo Schmitt un politico senza tempo e un politico senza spazio senza confini che distinguono amico da nemico per Schmitt non è un politico perché vengono meno con quell'inizio di globalizzazione le coordinate che hanno retto tutta la logica politica moderna distinguendo società e stato particolare universale nemico e criminale le macerie materiali e spirituali del dopoguerra sono per Schmitt l'esito e anche il simbolo del disfacimento dell'ordine che per almeno 500 anni ha prodotto la civiltà occidentale e questa deriva questa deriva prima che geopolitica metafisica che secondo Schmitt ha scatenato una guerra civile mondiale durata 30 anni e non chiusa ma proseguita dalla guerra fredda una catastrofe dal suo punto di vista adesso rappresentata dalla presenza delle nuove potenze mondiali Stati Uniti in Unione Sovietica al suo solo europeo e addirittura dentro la Germania occupata a differenza del nodo di Gordio che decideva senza separare il muro di Berlino separa togliendo la possibilità di decidere azzerando la potenza istituente del politico l'accostamento della Russia allo spazio alla cultura europea che inizia con Piedro il Grande aveva fin dall'inizio spaventato l'Europa come sappiamo aveva tanti libri sull'autocoscienza dell'Europa rispetto alla Russia ma prima la rivoluzione di ottobre poi la vittoria contro i tedeschi a Stalingrado costituiscono nell'autocoscienza europea un salto di qualità molto più terribile destinato a mutare lo scenario politico teoretico simbolico questo orizzonte è in questo orizzonte epocale che va inteso il dialogo tra Jung e Schmitt nessuno dei due legge il taglio come un'antitesi senza punti di contatto il nodo è piuttosto una tensione che mette in rapporto anche ciò che separa per Jung sul piano sul piano mitico simbolico per Schmitt sul piano storico politico quanto a Jung certo il rapporto alla libertà divide nettamente i due mondi solo in Occidente la libertà è il valore supremo indisponibile a ogni tirannia sappiamo come dice Jung procedono avanzano in guerra occidentali orientali spianare la terra davanti a sé fanno unni mongoli tartari e a poco a che vedere con le strade i ponti costruiti nelle avanzate dai romani o da Enrico a giusto titolo chiamato il costruttore in verità andrebbe ricordato per amore di giustizia che anche gli occidentali tedeschi fecero una guerra molto diversa a ovest e a est una guerra molto diversa e non a caso Jung sostiene che Hitler è un orientale ma insomma c'è da pensarsi su questo punto così come il rapporto col capo distingue radicalmente i due mondi il rapporto con il capo militare nel senso che solo a Oriente come negli scacchi la caduta del re segna la fine del gioco finisce il gioco non così all'Occidente dove un esercito può reggere anche alla morte del proprio generale sostituendolo con un altro in questo senso Jung può scrivere che in Occidente la libertà precede lo spazio nel quale si presenta precede lo spazio e il presupposto circonda l'Europa con frontiere più solide che non i mari e le montagne scrive con qualche accento ritorico Jung naturalmente si tratta di una questione il rapporto con la libertà ma insomma che non possiamo non sentire anche nostro anche oggi rispetto ai paesi situati a est fino alla Siberia e alla Cina orientale e che certo segna un punto di discrimine insuperabile sul piano dei valori e anche delle forme di vita ma poi lo stesso Jung sembra relativizzare questa pur fondamentale differenza in un racconto che non rompe mai il rapporto tra punti cardinali e strati dell'animo umano nello stesso uomo nello stesso essere umano ci sono questi due strati in ognuno di noi c'è un oriente e un occidente del resto a movimentare uno scenario che non è mai bloccato in una semplice antitesi Jung ricorda che a lungo nel mondo antico Asia minore e Nord Africa sono a passi più occidentali che so della Bretagna o perfino della stessa Germania e procede parlando di confini non rigidi scambio di idee forme forme che attraversano le epoche da quando Alessandro iniziò a fondere le forme politico-culturali greche con quelle orientali la stessa prospettiva di uno stato mondiale su cui Junger conclude il proprio intervento rinvia la necessità di riattivare il rapporto tra occidente e oriente già nelle intenzioni di Alessandro l'incontro tra due mondi afferma Junger è un problema costante è un problema di oggi è un compito visto che tra spirito occidentale e sostanza orientale vige un rapporto di reciproco consumo e fecondazione perché già nella spada di Alessandro nella spada di Alessandro splende la simmetria bilaterale dello spirito il grande incontro si rinnova periodicamente conducendo obiettivi universali lo stato mondiale che riguarda Junger come esito della mobilitazione totale prodotta dal dispiegamento planetario della terra vuole essere il degno erede del grande disegno cosmopolitico di Alessandro attraverso la dissoluzione dei confini tra gli stati e l'unificazione del mondo in un organismo globale beh pur ponendosi su un piano molto diverso rispetto a quello di Junger Schmitt ne coglie l'intenzione coglie l'intenzione del suo interlocutore e la condivide non si può dire scrive Schmitt che Junger abbia esaltato la soluzione del colpo di spada e l'interpretazione sono parole di Schmitt dittatoriale decisionista è esattamente quello che poi verrà improverato a Schmitt stesso di avere questa interpretazione decisionista e quella la interpretazione a suggerire dei fraintendimenti la conclusione di Junger afferma il suo interlocutore non è un out-out è un et-et una transizione un incontro reciproco un bussare la porta uno scambio e un equilibrio ma diversamente che Junger un equilibrio che per Schmitt non può sfociare in un universo in un unico organismo mondiale ma deve assumere invece la forma del multiverso e del pluriverso l'unico a consentire l'agire politico naturalmente quando noi leggiamo queste espressioni di Schmitt per esempio l'espressione grande spazio non possiamo dimenticare il modo in cui questa espressione era usata nella Germania del suo tempo spazio vitale il modo aggressivo e addirittura omicida con cui era usata quell'espressione ma Schmitt negli anni 50 parla di grandi spazi come gli unici che possono rimettere in gioco l'agire politico questa è la conclusione e l'esito di quello spostamento che Schmitt fa diciamo dalla dalla tonalità mitico-simbolica e metafisica di Jung alla totalità alla tonalità geopolitica per quanto anche Schmitt suggestionato dalle immagini mitologiche pensiamo a Leviathan e a Bemoth Schmitt imposta sempre le questioni secondo il criterio della risposta a sfida i popoli rispondono alle sfide e anche gli autori rispondono alle sfide filosofiche che hanno anche la relazione tra Occidente e Oriente devastata dal nechilismo e poi dalle invasioni russi e americane fino alla presa di Berlino sottopone l'Europa a una sfida a una sfida a cui l'Europa ancora oggi è sottoposta no? Qual è la sfida? La dissoluzione del diritto pubblico europeo determinata dal collasso che hanno sperimentato le categorie politiche moderne e poi la guerra mondiale che ha spinto l'Europa fuori dal centro delle relazioni mondiali significative a venir meno con il crollo dell'ordine europeo e il sistema degli stati e il loro nomus ma per Schmitt quest'ordine non può essere sostituito da uno stato mondiale da un Weltstadt non solo perché impossibile perché sarebbe nocivo segnerebbe per Schmitt il compimento del nichilismo senza sapergli sostituire un nuovo ordine non solo ma segnerebbe la scomparsa definitiva del politico inteso come rapporto tra alterità ma integrabili nello stesso universo la globalizzazione di cui Schmitt intravede precocemente l'avvento ha dissolto i confini tra gli stati già minati al loro interno dalla caduta di distinzione tra stato e società della distinzione tra nemico terrorista e criminale l'unico ordine che Schmitt riesce a immaginare è quello dei grandi spazi raccolto intorno allo stato più forte la Germania in Europa la Germania una volta ricostruita dopo la guerra gli Stati Uniti in America la Russia in Cina e il Giappone nell'estremo Oriente pensa ancora Schmitt naturalmente la Cina è ancora fuori gioco in quella fase ciò non significa che il discrimine duale il binomio fondamentale che articola il mondo venga del tutto meno ma non può essere più rappresentato dall'antica bipolarità occidente-oriente dagli archetipi di Junger non può che essere rappresentato dai due elementi contrapposti la terra e il mare che attraversano e decostruiscono i punti cardinali e gli spazi imperiali è vero che la terra corrisponde adesso soprattutto al continente e il mare corrisponde al blocco anglosassone congiunto dall'Atlantico inoltre fino agli inizi degli anni 40 la terra è rappresentata ancora dalla Germania prima di essere rappresentata poi dalla Russia e il resto a complicare le cose benché in Oriente il Giappone è stato soprattutto una potenza marittima almeno fino a Pearl Harbor quello che conta nella risposta di Schmidt dunque non è tanto il confronto Oriente-Occidente ma tra due modi dell'Occidente di pensarsi un Occidente continentale o un Occidente Atlantico se fino alla seconda guerra mondiale la partita era aperta le guerre si vincevano ancora sulla terra beh poi il gioco sembra inclinare a favore delle potenze marittime anche se mentre parlavo stavo pensando che ancora oggi poi alcune guerre si vincono sulla terra la balena trova la sua rivincita rispetto all'orso la sconfitta della Germania apre una fase nuova del mondo il rapporto di forza tra terra mare e cielo è stato modificato dall'ingresso in campo della tecnica non per nulla il predominio dell'Inghilterra il predominio storico politico geopolitico dell'Inghilterra è stato anticipato accompagnato dalla rivoluzione industriale la rivoluzione tecnica il patto atlantico del 1949 chiude idealmente la stagione iniziata con la scoperta dell'America da allora il controllo dell'Atlantico diventa più importante dell'egemonia sul continente sull'Europa prima che l'attacco del Giappone agli Stati Uniti aprisse anche il Pacifico come grande terreno di scontro da quel momento osserva Schmidt quello che noi chiamiamo il porto contrariamente a quanto indica il suo nome non va in più inteso come la porta di entrata in casa ma come la via di uscita verso il mare dal punto di vista del mare vedete la Spagna la Spagna è un grande pesce prodato sulle coste orientali dell'Europa e l'Inghilterra non è più un'isola ma è una nave che sembra andare verso l'America certo osserva Schmidt casa e nave sono entrambe costruite attraverso una tecnica ma mentre la casa ha una funzione e un dispositivo difensivo la nave è un dispositivo offensivo destinato appunto a rovesciare i rapporti di forza questo vale ancora di più per l'aereo che del cielo si unisce alla nave contro la terra e la congiunzione di navi aereo che segna l'egemonia politica militare fino adesso degli Stati Uniti in cui il predominio tecnologico degli Stati Uniti li porta a vincere prima la guerra calda e poi la guerra fredda oggetto dello scontro tra quelli che dopo la prima guerra mondiale rappresentano Occidente e Oriente e adesso l'Europa l'Europa è il vero luogo del nudo l'Europa è il nodo di Gordio oggi la terra che va decisa anche nel senso etimologico del termine dai due imperialismi che vengono da est e da ovest la terra è diventata l'Europa è diventata il nuovo nodo di Gordio il luogo della decisione che ha per oggetto il destino stesso dell'Europa la decisione riguarda qualcosa che Junger Schmidt mi avvio a concludere riescono appena a intravedere cioè la terza globalizzazione dopo la prima globalizzazione delle scoperte geografiche e la seconda globalizzazione della rivoluzione industriale ma sulla valutazione della globalizzazione le loro prospettive divergono dal punto di vista di Junga la globalizzazione sembra orientare il mondo verso lo stato globale quello che aveva intravisto all'inizio del novecento per Schmidt quel processo di unificazione del mondo sotto il dominio dell'economia e della tecnica questo appare a Schmidt beh sembra un incubo vale a dire la compiuta spoliticizzazione del globo che oggi ricongiunge il negativo occidente e oriente da questo punto di vista solo da questo punto di vista Schmidt aveva qualche ragione chi aveva scommesso su una globalizzazione liscia portatrice di pace e di democrazia deve ricredersi non solo non solo la storia appare tutt'altro che finita ma si riapre si va riaprendo una faglia che divide ancora una volta occidente e oriente nella maniera più rischiosa per il mondo intero quello che Schmidt e Jung avevano visto come un nodo appare oggi come una carica esplosiva sempre a rischio di deflagrazione a tagliare a sciogliere quel nodo oggi non basta più la spada non basta più una spada perché il rischio è che il taglio possa trasformarsi in una nuova autodistruzione dell'Europa e del mondo rispetto a quel rischio alla possibilità sempre più concreta che la fine della storia diagnosticata da Fukuyama possa tramutarsi all'improvviso nel conflitto di civiltà pronosticato da Huntington la risposta di Schmidt appare forse più realistica di quella di Junger ma non basta non basta il problema del nodo di Gordio cioè quello di tenere insieme ciò che pure disgiunge è qui ancora davanti a noi grazie grazie